Tankovic che era il primatista ne ha vinte 5 con la Juventus, una con il Parma, riceve l'abbraccio di una tifosa cinese è il momento di sollevare la Supercoppa italiana, Buffone che la riceve dalle mani del presidente della Lega Maurizio Beretta la Juventus ha battuto, la Lazio ha vinto la settima Supercoppa italiana della sua storia, questa è la festa bianconera